Non è inseguendo l'estremismo il populismo di Salvini, né inventandosi un fantomatico nuovo nome di un partito repubblicano che il centrodestra tornerà ad essere protagonista, come dimostra l'esperienza di Cameron in Inghilterra e solo tornando ad essere concreti, a fare proposte veramente riformatrici e a presentarci con una nuova classe dirigente che torneremo ad essere credibili e alternativi a Renzi e alla sinistra.